Partita sporchissima, quella che permette oggi alla Fiorentina di fare tre punti importanti per il campionato di ritornare alla vittoria in campionato dopo l'ultima che era avvenuta col Sassuolo e di ritrovare anche un po' di fiducia con il gol soprattutto per l'attaccante Grandissimo Arthur Cabral, 3-0 viola, almeno 0-3 contro l'Ellas Verona Contro l'Ellas Verona non diciamo irresistibile oggi però l'hanno buttata molto sulla partita diciamo fisica fallosa partita diciamo anche nervosa, avete visto si è nervosita subito comunque prima di iniziare con la disamina e le varie considerazioni e il commento di questa partita che permette alla Fiorentina di prendere tre punti importanti di distacco sulla zona salvezza e di avvicinarsi magari a una zona europea e di trovare continuità voi mi raccomando mettete like al video, condividetelo con i vostri amici tifosi viola e non e mi raccomando ragazzi veramente mancano credo due iscritti iscrivetevi al canale per piacere arriviamo a 400 iscritti e sarebbe veramente un grandissimo regalo commentatemi facendo sapere qui sotto le vostre impressioni su questo match, su questo Monday night Monday afternoon tra virgolette e visitate anche la pagina di Space Viola grandissimi, grande grande progetto allora parliamo un po' di quella che è stata la partita oggi a livello di formazione mi è piaciuta quella escesa in campo un quasi simil turnover pensando anche un po' alle fatiche spese contro il Braga in casa pensando anche un po' al fatto che sabato la Fiorentina scenderà di nuovo in campo e che ci aspetta adesso un tour de force dove dovranno essere tutti pronti e tutti diciamo disposti a dare il 100% in campo perché c'è il Milan sabato, poi c'è il Sivaspor l'abbiamo commentato al sorteggio nella live del canale se ve lo volete andare a vedere la live reaction fatelo pure non indugiate e oggi come ho detto formazione devo dire tutto sommato giusta mi è piaciuta una formazione che comunque ha improntato diciamo ha fatto della sua forza anche la fisicità Italiano l'aveva detto in conferenza stampa conferenza stampa nelle domande, nelle analisi del prepartita vedete che sarebbe stata una partita sporca quindi giusto naturalmente far giocare a Bravat queste sono le sue partite anche se oggi non ha brillato molto ma ha fatto un buon filtro al centrocampo devo dire finché è rimasto nel terreno di gioco ci ho detto appunto importantissima la sgroppata di Cone che pensavo potesse tirare lì ma poi sceglie la generosità dona il pallone a Barak che poi la schiaffa dentro e sblocca una partita molto molto importante anche perché fino a quel momento la Fiorentina si aveva creato qualche cosina ma non era stata molto incisiva quindi diciamo che la pratica è stata si è archiviata nei 38 minuti grazie anche al gol al non so quinto gol di fila di Cabral che ora inizia a essere veramente un attaccante che la butta dentro nei 38 minuti si è chiusa la pratica poi fine primo tempo abbiamo un po' rischiato nel secondo tempo partita nervosissima brutta brutta una partita brutta nel secondo tempo veramente tremenda e poi ho visto ad un certo punto Biraghi che stava andando a fare così sotto la curva tu che è successo? sai a volte purtroppo anche se noi ci siamo gemellati e rispetto per naturalmente Lellas capita a volte ci sono episodi di razzismo e visto il balletto il risorio di Cabral Igor e Dodò sarà purtroppo sarà stata detta qualche cosa invece no assolutamente Biraghi sfrutta il regolamento boom tira dal centro campo un gol assurdo bellissimo mi fa fare anche un più tre al fantacalcio grazie mille Biro e niente mette la partita in banca 3 a 0 0 a 3 bellissimo veramente bello 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 a parte quello comunque nel primo tempo tra metà atti che l'abbiamo visto un po' qualche sovrapposizione in difesa siamo stati attenti mi è piaciuto molto di più il coinvolgimento di Dodò Terzic oggi non mi è piaciuto gli ho preferito molto di più Dodò in difesa Igor secondo me un po' troppo ballerino più deciso Martínez Quarta che secondo me insieme a Milenkovic adesso dovrebbe andare a comporre la coppa titolare Mandragora ottimo nel senso ha fatto il suo dovere ha battuto bene il calcio d'angolo mi è piaciuto molto Icon è contento per l'assist è contento per un po' magari di fiducia ritrovata lui con l'Ellas ha un buon feeling gol nel gol uno dei pochi gol che ha fatto quest'anno è stato contro l'Ellas e oggi un assist per sbloccare Antonin Barak che oltre al gol ha fatto una partita molto più ombrosa diciamo ha agito alle spalle di Cabral anzi a volte andando anche a sostituirlo nel ruolo di punta magari lasciando Cabral fargli fare un po' la punta senza fissa di Moro quella che ti va a togliere i punti di riferimento là davanti e Barak sfruttava diciamo quel vuoto e lasciava l'attaccante brasiliano Nico bravo sulle palle diciamo alte oggi ne ha spizzate parecchie si è preso dei falli me lo aspettavo un po' più diciamo freddo anche sull'ultimo gol sull'ultimo gol che poteva fare quindi avrei diciamo sarebbe stato un bel coronamento il gol di Nico verso la fine del match ma a parte quello dai ottima prestazione di Nico oggi non c'è niente a dire manca il gol no? Viro bene è entrato bene devo dire bellissimo avevo paura avevo paura veramente che la Fiorentina entrasse un po' mollo un po' molla nella seconda parte di gara invece questo 3 a 0 finale mi ha fatto dormire un po' più suoni tranquilli buona ventura al posto di Barak si ha messo un po' più di ordine al centro ha pulito ottimi palloni però mi aspetto sempre un po' più di incisività più di velocità nella manovra Castro non l'ho visto tantissimo bene secondo me Jovic guardo subito quanto palloni ha toccato 10 palloni ha toccato non è stato servito non è stato cercato praticamente quindi sicuramente oggi è prevalso di più Cabral anche non fosse anche per il gol Saponara è entrato un po' molle in certe situazioni però insomma un po' di pericolosità un po' di imprevedibilità te la regala sempre Terracciano Terracciano comunque oggi ha sventato qualche gol e qualche situazione pericolosa oggi ha fatto una discreta la prestazione più che altro la Fiorentina torna a fare dopo la partita di Braga anche un clean sheet cosa insomma una porta inviolata conclude la partita porta inviolata ed è un sentimento anche di fiducia magari no quindi per me top e flop di oggi la flop diciamo che mi aspettavo forse un po' di più da Terzic e da Amravat se possiamo chiamarli flop mi è piaciuta la partita di Cabral comunque che a livello di sponda avete visto è un po' più ciampicone ecco forse è più pulito Jovic nel fare quel lavoro ma nell'incisività nera di rigore oggi lo devo premiare quindi bene Cabral bene anche Mandragor e bene Barak Dodò non mi è dispiaciuto e Biraghi per il gol sicuramente gran gol di Biraghi devo dire gol così non se ne vedevano da tanto tempo dall'ultimo di Ilicic contro il Torino se non sbaglio da metà campo credo uno dei gol dalla più distanza mai registrati probabilmente quindi insomma grandissimo gol di collo pieno una bella frustata poi preciso cioè nemmeno sai il portiere era lì a farsi la fersione c'ha anche provato Montipo a pararla però comunque dai bene 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 adesso la classifica cosa dice vediamo un attimo Fiorentina 12 posto 24 partite 28 punti la zona del Bologna dista a 7 punti e la zona Conference League dista a 7 punti però adesso ragazzi inizia un tour di forza molto importante c'è il Milan c'è il il Sivaspor se non sbaglio poi in casa dopo il Sivaspor nel mezzo della gara di ritorno abbiamo la Cremonese fuori casa e il Sivaspor fuori casa inizia un bel tour di forza adesso eh ragazzi bisogna essere concentrati poi Lecce addirittura tre giorni dopo il Sivaspor e poi pausa pausa nazionali ecco insomma sarà importante cercare almeno in campionato di mantenere la concentrazione e di fare più punti possibili in modo da essere tranquilli ed essere cinici in tutti i modi soprattutto all'andata contro i turchi detto ciò ragazzi bene stasera si va un po' più a letto col sorriso un po' più tranquilli con un po' anche la pancia piena la bocca e la pancia piena no tre gol comunque sono importanti da fare anche a livello di fiducia è vero l'Ellas non era un avversario inesistibile ma era anche vero che non perdeva in casa non aveva mai perso in casa nel 2023 mentre la Fiorentina l'unica vittoria che aveva fatto nel 2023 era sì in casa contro il Sassuolo però arrivata all'ultimo con un rigore dubbio trasformato da Nico Gonzalez ciò detto torniamo alla vittoria in campionato torniamo un po' più a sorridere mi raccomando ragazzi sempre sempre forza Viola ciao